Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeonico, la trasmissione Magia, Stragonaria, Paganesimo, parte seconda. Bene, allora in questa trasmissione, prima di iniziare la trasmissione, vi ricordo che venerdì 20 ottobre 2006, alle ore 20.30 a San Drigo Vicenza, presso la Biblioteca Comunale, si terrà una conferenza pubblica di presentazione del libro Contro il monoteismo con un saggio sulla religiosità animale. Il libro Contro il monoteismo verrà presentato dall'autore Silvano Lorenzoni e verrà presentato nel suo insieme. Se a qualcuno interessa vi ricordo che presso la libreria bassanese a Bassano può trovarne alcune copie, un libro che costa anche abbastanza poco. Per cui l'appuntamento, per chi vuole assistere all'illustrazione del libro, è per venerdì 20 ottobre 2006, alle ore 20.30 a San Drigo Vicenza, presso la Biblioteca Comunale. Contro il monoteismo interviene l'autore Silvano Lorenzoni. Bene, dato questo che è il nostro appuntamento più importante per il momento, Andiamo avanti con la trasmissione di questa sera, che continuerà la trasmissione serale, cominciato giovedì scorso, di argomentazioni su discussioni, chiamiamole così, lo sommato confronti, con persone non pagane che ponevano dei quesiti. La persona in questione è un cristiano, è un cristiano, credo che sia un psicologo, un laureato in psicologia, che ho incontrato su un NG, un NG è un gruppo di discussione naturalmente in internet, il gruppo di discussione Free It, religioni cristianesimo, su quale ho postato qualche decina di messaggi, perché su quel gruppo di discussione c'era una persona che insultava Franco e allora mi sono un po' arrabbiato e mi sono messo a postare un po' di messaggi su quel gruppo di discussione. Naturalmente, a parte tutto quello che è successo, alla fin fine è venuta questa persona che leggendo un testo che io avevo messo, ne estrae una decina di punti di un testo e propone una discussione. Ci sono degli alti e bassi finché la discussione marcia, va avanti, e in questa discussione praticamente sono venuti fuori 120.000 caratteri, praticamente è venuto fuori un testo lunghissimo, che non è tanto una discussione, ma è il confronto fra due modi di vedere le cose e due modi di vedere la vita che sono diverse. Anche il modo di esporre questo modo diverso di vedere la vita è chiaramente diverso. Cioè, io ho ripreso le email, adesso ve le leggerò tutte una a una, ma mi fermerò chiaramente a fine trasmissione riprendendola il prossimo giovedì. Però, quello che noterete nel corso delle cose, della lettura che vi darò, è che mentre il cristiano dà tutto per scontato, cioè come se tutto fosse dovuto, tutto fosse inteso in un certo modo, io che mi pongo come pagano politeista, invece tento di spiegare, cioè di far capire le cose. E queste modalità di discutere o di presentarsi è tipica del cristiano e del pagano politeista, cioè il pagano politeista spiega le cose, il suo punto di vista, lo riempie di contenuti, mentre il cristiano lo dà per scontato. Cioè, praticamente, quando il cristiano usa un termine, non so, tipo il termine buono, lui è convinto che tutto il mondo, tutte le persone al mondo, abbiano sul termine buono lo stesso significato, lo stesso intendimento, lo stesso concetto. Cioè, è dà per scontato, in pratica, che tutto quello che lui usa sia normale, che tutte le persone lo usino. E non gli viene in mente che è dovere di ogni persona che afferma qualcosa di riempirla di contenuti e di significati. Per cui, chiaramente, quando io vi do lettura adesso del testo, anche della storia di come si è presentato la discussione, troverete proprio questa differenza. Cioè, i miei testi sono più lunghi, perché io ho l'esigenza di spiegare all'altro. Cioè, cerco di far capire all'altro quello che io intendo dire, per cui mi dilungo nelle spiegazioni, mentre invece l'altro dà molto le cose per scontate. Ed è abbastanza difficile, abbastanza, diciamo così, pesante, riuscire a capire quando parlo io o quando parlo l'altro. A parte il fatto che dopo un po' di tempo capirete esattamente chi sta parlando, se lui è Dorian o io. Però, secondo me è importante analizzare anche questo modo di porsi, perché è il modo di porsi che ha il pagano nei confronti del cristiano, o il cristiano nei confronti degli altri, della società civile. Ed è importante afferrare psicologicamente le due posizioni. Tutta la discussione è partita da un testo che io avevo messo in rete, cioè è un testo, per direi, un testo che lo trovate all'indirizzo, se vi interessa, www.federazionepagana.it barra dialogo interreligioso.html È un testo che io avevo fatto per spiegare alle persone come era impossibile discutere di religione con un cristiano. Si può discutere con un cristiano come comportarsi nella vita civile, si può discutere qual è la legge migliore per la società civile, ci si può scannare per il discorso dell'aborto, per il discorso dell'eugenetica, per il discorso della fecondazione assistita, ma quando si entra a discutere dal punto di vista religioso, con un cristiano è impossibile discutere, perché un cristiano non ha nessuna motivazione con la quale sostenere la sua religione, il suo essere cristiano. Ha soltanto quel concetto di fede e di credenza che gli ha radicato nel profondo e che gli costruisce un bisogno psichico di dipendenza dall'oggetto del suo credere. E questo non lo si può assolutamente discutere, ce l'ha dentro ed è ferocemente deciso a difendere la realtà di quell'oggetto che lui immagina da qualsiasi ragionamento, da qualsiasi dimostrazione, da qualsiasi argomentazione. Difenderà ferocemente l'oggetto della sua fede perché è l'unica cosa che gli rimane perché sa di aver sprecato la propria vita ed è attaccato a quella credenza come l'ultima risorsa. Pertanto non pensate mai di discutere con un cristiano dell'oggetto del suo essere cristiano. Lui ci morirà così. Però non tutte le persone hanno un oggetto di dipendenza immaginario che proiettano sul mondo e qualche persona cerca anche di capire. Per cui non è impossibile vivere con i cristiani nella vita civile anche se tentano di piegare la vita civile alla loro fede e alla loro morale. Però è impossibile discutere con un cristiano di fede. E infatti io quel documento l'ho fatto proprio per dimostrare a dei personaggi ambigui che non è possibile nessun dialogo interligioso. è possibile solo la convivenza di diverse religioni diversi modi di vedere la vita all'interno di uno Stato che faccia dei principi costituzionali il motivo della sua esistenza. Quello che normalmente avrebbe chiamato uno Stato laico anche se con la parola laico è estremamente ambigua e si costruiscono truffe e inganni. In realtà uno Stato che obbedisca alla Costituzione e non ai principi dogmatici cristiani. Bene anche il raffreddore ci voleva questo è un apposto un attimo ok allora niente io vi leggo questa pagina che sarà di difficile lettura e interpretazione però se ci mettete un po' di attenzione riuscite a capire dove vado a parare poi mi fermerò a fine trasmissione e riprenderò la prossima trasmissione la pagina è in internet la trovate come http2.com www.federazionepagana.it barra religionecristianesimo punto html e si intitola sui motivi dell'incompatibilità religiosa nel confronto fra pagani politeisti e cristiani postato naturalmente a Claudio Simeoni questa pagina è dedicata ad un dibattito confronto con un cristiano che voleva riuscire a capire la differenza che c'è fra le concezioni religiose pagane politeiste e le concezioni religiose cristiane il dibattito è avvenuto sull'NG un gruppo di discussione freeitreligioni punto cristianesimo nel mese di settembre del 2006 leggere la cascata di messaggi può risultare faticoso e fuorviante per chi non conosce i principi della religione pagana politeista e chi non ha dimestichezza anche a leggere le mail alcuni riferimenti nelle mail sono relativi ad altre persone che postano messaggi in quell'NG e ciò non facilita il lettore nella comprensione dei riferimenti inoltre io non voglio facilitare il lettore che dovrà essere egli stesso in grado di stabilire quando parla Dorian e quando parlo io e a capire a chi Dorian si riferisce nelle risposte e a chi mi riferisco io in ogni caso il testo anche se la lettura può risultare complessa e faticosa è in grado di permettere al lettore di comprendere come la religione pagana politeista sia la religione dell'uomo in contraposizione a una religione cristiana che può essere imposta all'uomo soltanto mediante la violenza della credenza e della fede a mio avviso il confronto dimostra l'impossibilità del dialogo tra pagani politeisti e cristiani dove una convivenza può essere assicurata soltanto dalle leggi di uno stato laico e sottratto all'influenza religiosa le ragioni dell'uno e dell'altro possono avere la propria sintesi e la loro espressione soltanto nell'esaltazione dei principi fondamentali della costituzione nazionale in questo caso italiana il primo post è di Dorian scaricato con autolucco con modalità risponde questo vale per i tecnici in internet che sta commentando alcuni passi relativi ad un testo sul dialogo interreligioso che ho postato commentando la difficoltà di ogni tipo di dialogo con i cristiani il testo lo trovate all'indirizzo federazionepagana.it dialogointerreligioso punto html e da lì prende avvio la discussione l'ultimo post alla fine di tutto quanto la discussione è di Dorian che mi chiede di fermare la discussione e io accetto perché se le visioni sono diverse nel corso alla discussione Doria non ha mai tentato di imporre il proprio credo ne ha dimostrato insensibilità per la società civile cosa significa insensibilità per la società civile significa che negli ENG specialmente in quelli cristiani io mando a quel paese le persone quando posto messaggi di violenza sui bambini ad opera dei preti e questi si mettono a difendere i preti quasi fosse un loro diritto di violentare i bambini purtroppo c'è anche questo ed è veramente sconcertante allora io ho postato sul messaggio questa pagina Doria legge questa pagina e da questa pagina Doria estrae alcuni punti che gli interesserebbero discutere e infatti me li dice io quando ho posto quella pagina dico che dal mio punto di vista non tutti sono in grado di leggerla comunque Doria legge quella pagina e dice mi va bene l'approccio comportamentista ti basi sui testi biblici e non sulle definizioni teologiche ma qualche commento di seguito al tuo testo praticamente mi posta una serie di citazioni dal mio testo che si promette di commentare proviamo a vedere le citazioni che lui estrae dal mio testo così almeno avete un'idea del testo citazione quando si legge un testo o si guarda un film si espongono le nostre emozioni ed essendo il lettore e lo spettatore esterni al testo o al film si trasformano in tifosi che anelano a leggere o a vedere un risultato finale che si è in sintonia con le loro aspettative emotive dice donia ok quando leggo qualcosa cerco la conferma ciò che vorrei sentirmi dire va bene come riassunto lui dice dopo di che continua con tutte le citazioni e dice citazione in altre parole questa è la mia citazione del mio scritto la differenza fra il cristiano e il non cristiano sta nella propria collocazione psichica davanti al medesimo testo il cristiano si immedesima col dio che macella l'umanità immaginandosi al suo fianco trionfatore il non cristiano si immedesima nell'umanità che affrontando la propria esistenza con coraggio si vede spezzata via da un potere incontenibile vile ed istruttore scusate un attimo c'è un problema ok un attimo solo metto solo una musica ok beh fatto ok altre quando leggo qualcosa cerco un conferma a ciò che vorrei sentirmi dire e se voglio sentirmi impotente voglio male a me stesso voglio essere perdente penso tu concordi con me sul fatto che ci sono delle persone che agiscono secondo dei modelli culturali non vincenti in tal caso immagino non cerchino l'identificazione con qualcuno che trionfi quanto piuttosto cerchino conferme al loro essere perdenti quindi la frase il cristiano si immedesima col dio che macella l'umanità immaginando si soffra a fianco trionfante senza discutere per sul fatto del macellaio non è necessariamente vera riguardo al macellaio immagino concorderai con me che nella lettura di un testo sono implicate almeno tre dimensioni il frammento particolare che si legge il testo globale in cui è inserito quel frammento le opportunità ed i limiti di chi lo legge in questa prospettiva il fatto del macellaio è quantomeno discutibile si parla infatti pure di vita eterna di risurrezione del corpo eccetera dice Doria mi cita Doria io dico il cristiano pertanto non è in grado di discutere della propria struttura religiosa in quanto questo mette in discussione la sua struttura emotiva e l'immaginazione che proietta da sé nella lettura del mondo e l'interpretazione della sua religione dice è un tema molto studiato sia in antropologia che in psicologia culturale e riguarda sia il pregiudizio etnocentrico che ciò che viene chiamato sia il giudizio etnocentrico che ciò che viene chiamato riflessività essere consapevoli delle teorie e dei strumenti che utilizziamo per muoverci nel mondo è la terza delle dimensioni che ho sottolineato nel commento precedente riguarda però sia i credenti che i non credenti è comune a tutti gli esseri umani antropologi e psicologi inclusi continuo a leggere ma una domanda capisco anche se non condivido la tua critica contro i cristiani indefinibili peraltro in quanto massa compatta ma in che senso questa sua critica si rivolge anche a Gesù ha forse mai costretto qualcuno a credere inizio citazione dal momento che non è possibile accettare una simile imposizione il cristiano non è in grado di discutere con nessuno fine citazione sto cercando di farlo proprio adesso dice Doria per ora chiuderei qui poi vediamo se procede ciao ho letto tutto il testo Doria e questo è la prima email che viene mandata poi seguo un'altra email ed è una mia email di risposta vediamo un attimino da dove comincia allora scrive Claudio Simeoni in federazione pagana ttp barra dialogo interligioso punto html inizio il cristiano e il cristianesimo non è una dottrina religiosa quando dico che il cristianesimo non è una dottrina religiosa intendo prendere atto che il cristianesimo è strano agli uomini fine poi anche inizio per il cristianesimo gli uomini devono credere in quanto è rivelato solo che devono credere che quanto è rivelato sia rivelato dall'oggetto del loro credere il credere o la fede diventa l'unico elemento esistente nel cristianesimo per contro il confronto fra gli esseri umani non si basa sul credere e nemmeno sulla fede si basa sui fenomeni che giustificano un credo o una fede fine dice Dorian ok si tratta dell'evidenziazione di una tautologia Dio è vero perché ci credo credo in Dio perché Egli è vero dice mi cita Dorian e scrive in pratica io posso discutere con un credente cristiano solo se il credente cristiano porta elementi a supporto di quanto gli afferma io non posso discutere sulla realtà del Dio creatore dei cristiani perché tale realtà essendo il frutto di una convinzione soggettiva non è oggettivabile può essere creduta da un soggetto o da molti soggetti ma non può essere dimostrata può essere solo affermata o negata naturalmente Dorian dice che è una tautologia cioè Dio è vero perché ci credo credo in Dio perché Egli è vero in pratica è un serpente che si morde la coda cita ancora da me Dorian il cristiano si trova nella scomoda posizione di non essere in grado di usare gli unici due elementi che qualificano la realtà di un sistema religioso nella quotidianità degli uomini non è in grado di dimostrare la realtà della sua dottrina non è in grado cioè di dimostrare l'esistenza del suo Dio ma peggio ancora non è in grado di dimostrare l'esistenza anche perché la dimostrazione della non realtà dal punto di vista storico archeologico è già avvenuta di gente come Mosè Gesù di Nazareth nella loro relazione con la realtà d'esistenza del suo Dio padrone non è in grado di dimostrare all'interno dei sensi gli oggetti del suo credere ok dice Dorian nel prossimo posto comincia a tentare una risposta sostieni una concezione di realtà e di verità umana che equivale a quella di esistenza è realtà verità umana ciò che esiste per gli uomini correggimi se ho capito male rispondo io qui dovrei avere più chiara l'immagine che tu hai in testa e che tenti di trasmettere la realtà è ciò che è solo che la realtà è infinitamente maggiore di quanto un essere umano può descrivere in pratica la nostra ragione ritaglia una sua realtà soggettiva dall'immenso della realtà oggettiva quando parliamo dell'uomo e della ragione parliamo di quel ritaglio di quella descrizione la ragione dice che è verità ciò che lei descrive e riesce a giustificare Dorian dice cerco di argomentare perché la vita di Gesù e la religione che a lui si rifà mi sembra concretizzazione di questo concetto non ho studiato filosofia quindi lo faccio come riesco nell'espressione che ho usato è realtà umana ciò che esiste per gli uomini il soggetto ciò che esiste per gli uomini è composto da due parti cioè che esiste e per gli uomini se non c'è un corrispettivo nell'esistenza non è realtà se non è per gli uomini non è realtà rispondo stai parlando della ragione umana la religione cristiana come definita dai suoi testi sacri è una religione della ragione la dottrina cristiana manifesta dei principi che sono all'interno della ragione la ragione intesa come capacità degli uomini di descrivere il mondo nella quantità e nella forma a delle specificità umane per cui l'oggetto che esiste deve rientrare nella ragione che lo descrive e lo misura ciò vale anche per i concetti filosofici la ragione degli esseri umani descrive gli oggetti in funzione degli esseri umani non è che l'oggetto sia necessariamente così ma così è descritto dalla ragione dice Dorian affinché sia per gli uomini devono esserci degli uomini che si rapportino a questa esistenza se l'esistenza quindi minaccia la presenza degli uomini essa non può essere reale la realtà è da subito intimamente legata a una questione di valori umani ciò che è reale deve anche essere almeno in potenza universalmente umano non può portare alla distruzione degli uomini altrimenti sarebbe irreale rispondo la ragione che determina la realtà degli esseri umani è specifica degli esseri umani la ragione dell'essere lupo è specifica all'essere lupo esistono dei caratteri della ragione che sono universalmente umani e dei caratteri che sono acquisiti dall'esperienza degli uomini e fondono la ragione specifica vedi le differenze culture le differenze credenze i differenti modi di relazionarsi fra gli uomini dice Dorian insomma ciò che è reale dovrebbe essere in qualche modo concretizzazione di valori universalmente umani beh fra le altre cose fra parentesi assomiglia moltissimo alla prova dell'esistenza di Dio no? se come io penso Dio sicuramente Dio esiste perché se lo penso io lo pensano tutti gli uomini dunque è un carattere universale che tutti gli uomini pensano e dunque Dio esiste è una roba vecchia che già Kant ne aveva fatto piazza pulita andiamo avanti rispondo Doria e questo è un po' più difficile ciò che viene rappresentato nella mia percezione non sempre quasi mai corrisponde all'oggetto reale ma l'oggetto reale attraverso i suoi fenomeni viene descritto dalla mia ragione solo che la mia ragione usa un'infima parte dei fenomeni dell'oggetto e molti fenomeni percepiti vengono interpretati dalla mia ragione pertanto un oggetto cambia nelle varie ragioni umane a seconda di come le ragioni umane riescono a percepire i fenomeni e a farli rientrare nella propria descrizione un esempio semplice Galileo percepì i fenomeni dei satelliti di Giove i cardinali che lo condannarono non ebbero nemmeno la forza di mettere gli occhi davanti al canocchiale prova ad immaginare la diversità delle due ragioni delle due menti delle due intelligenze beh qui faccio una parentesi è una cosa che vi inviterei un po' tutti a fare anche per riuscire a capire come possono essere diverse le persone questo concetto che io vi ho detto adesso ve lo sto dicendo da dieci anni adesso però siccome ha 55 anni visto che mi sta calando un po' la vista sono costretto per leggere almeno leggere le parole piccole come sto facendo in questo momento a portare gli occhiani non so quanto siano forti comunque sono una di o tre e mezza insomma uno e mezzo e quando sono al lavoro quando sono in certi posti non uso gli occhiali perché mi fanno male a vedere da distante pertanto da distante vedo benissimo ho ancora la vista di quando ero un ragazzo mentre invece da vicino la vista mi sta un po' calando e sono costretto a leggere con gli occhiali ora non essendo abituato a portare gli occhiali e avendo bisogno degli occhiali per leggere specialmente le parole in piccolo quelle che si vedono male stampigliate male è un po' difficoltoso non mettere gli occhiali per leggere parole piccole e non riesco a leggerle oppure mettere gli occhiali per leggere parole piccole alzare gli occhi e vedere da distante che mi fanno male capite questo gioco dell'uso degli occhiali spesso tolgo gli occhiali per vedere da distante perché mi dà fastidio gli occhi ma spesso mi sforzo di leggere di vedere delle cose senza gli occhiali e allora mi sto accorgendo che non avendo gli occhiali spesso molte parole mi sfuggono cioè non le vedo non riesco nemmeno a leggerle ora se non rispondo di telefoni anche se lasciate attaccati se voi pensate a questo a questo fenomeno e lo proiettate su tutti i sensi o anche sulla vostra attenzione voi potete capire quanti fenomeni voi non riuscite a vedere durante una giornata durante una vita o anche nella considerazione di persone o di fenomeni cioè molte cose si cancellano sistematicamente e vengono date per scontate proiettando su quelle cose delle nostre immaginazioni ebbene il fatto che noi proiettiamo sulle cose elementi della nostra immaginazione di fatto tronchiamo l'arrivo di fenomeni attraverso i nostri occhi le orecchie i gusti eccetera e costruiamo un'immagine di un oggetto in modo assolutamente impropria cioè ci facciamo un'idea dell'oggetto partendo da dei fenomeni che sono monchi cioè non approfondiamo l'immagine la conoscenza degli oggetti ebbene provate chi usa gli occhiali provi a fare questa prova e vedrà come non riuscire a mettere a fuoco in maniera precisa le cose altra la sua capacità di percezione del mondo viceversa troppi fenomeni che noi afferriamo degli oggetti del mondo ci possono dare una visione talmente profonda da perderci da mandarci fuori di testa comunque questo è un altro discorso ancora per cui pensate un po' alla differenza che c'era di mente che c'era fra un Galilei che osservava le cose si sforzava usava un cannocchiale per riuscire ad ampliare la sua vista sugli oggetti per cui è riuscito a vedere i satelliti di Giove è riuscito a capire come funzionava il cosmo comprendere alcuni movimenti e i cardinali che invece non avevano nemmeno la forza di mettere l'occhio avevano paura di vedere i fenomeni stessi cioè si sono ritratti davanti alla verifica ed è l'effetto della fede l'effetto della credenza la fede acceca le persone le rende cieche davanti ai fenomeni e questa è una parentesi che volevo che volevo aprire dice Doria Cristo e il cristianesimo innegabilmente hanno avuto degli effetti concreti dei corrispettivi nell'esistenza di molte persone volenti o nolenti c'è stata una storia governata dai vari papi e dalle corti cristiane Cristo e il cristianesimo sono in potenza universalmente umani credo di sì ama il tuo nemico da parti dagli ultimi siate servi gli uni degli altri è in potenza incarnazione di valori universalmente umani rispondo a Doria il problema di Galileo e dei cardinali si ripropone Dioniso o Dionisio come volete trasforma l'acqua in vino per i suoi nemici assetati non i panopoli dionisiachi questa azione mi stimola un'idea Dioniso forse ama i suoi nemici ha sentito le loro passioni il loro dolore lo ha interiorizzato ne ha avuto compassione ma se io vedo un nazista che punta il mitra ad un ebreo e gli dice ama il prossimo tuo su cosa pongo l'attenzione sull'azione o sulle parole e come interpreto l'una e le altre è vero che il Gesù dei Vangeli non punta il mitra ma dice è ampio per chiarire io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici ma in questo non c'è azione pertanto nessun concetto è espresso o meglio un concetto viene descritto mediante le parole ma non c'è nessuna azione che dimostri la concretezza o la significazione dell'azione in Dioniso vedo l'amore per i nemici ci sono molte altre cose perché si tratta di un romanzo non vedo le azioni di Gesù anzi vedo il contrario vedo gli insulti contro i farisei insulti gratuiti perché non sono legati a nessuna azione e quando un'affermazione non è legata a nessuna azione è un concetto buono per qualsiasi uso e consumo poi ciò che non toglie poi ciò non toglie che le parole nella testa vengano significate vengano significate assumono cioè un valore e si riferiscono a delle azioni ma nella testa però e tu lo confermi in quanto segue per esempio dici nella concretizzazione di questi valori ci sono state ci sono delle pecchie sì molte le sottolinei Anna molte le sottolinei tu prima ho scritto di proposito che molte persone volenti o nolenti hanno avuto degli effetti concreti dal cristianesimo il nolenti stona pur essendo potenzialmente vero ed è sufficiente che sia potenzialmente vero per poterlo attuare finora il cristianesimo non lo è stato direi che occorre un maggior collegamento fra teorie e prassi esempi una maggiore rinuncia al potere temporale politico una consapevolezza che la missione prima di chi è cristiano non è convertire a questo al limite ci pensa Dio chi è cristiano dovrebbe amare Dio e ciascun uomo con la propria vita facendo sperimentare a chiunque incontri ciò che di bello vive o ha vissuto da un'esperienza reale di incontro poi eventualmente ciascuno può decidere liberamente di aderire o no ma la fede non può mai essere imposta di esempi storici di imposizione ne abbiamo milioni continuamente tu stesso dunque gli rispondo nel dirlo riconosci che nella dottrina cristiana ce ne sono stati della dottrina cristiana ce ne sono stati molti usi molte interpretazioni allora se un principio può essere interpretato in maniera diversa significa quanto meno che quel principio si presta fra intendimenti ad un uso soggettivo a convenienze soggettive per esempio posso dimostrarti che quando Gesù guarisce non ricordo più chi e dice sono il padrone del sabato la chiesa cattolica lo interpreta come il suo diritto di incarcerare e torturare le persone l'ho messo da poco in internet dentro una pagina web quando Gesù non trova i fichi e maledice l'albero la chiesa cattolica vede nell'albero il popolo di israele e i fichi che mancano e sono gli israeliani che non credono nel figlio del dio del popolo di israele e con questo la chiesa cattolica ha legittimato il genocidio degli ebrei è il problema della gente comune cattolica per ora mi fermo qui se vuoi continuiamo ma se so non riprendiamo domani questa email fu scritta credo alle due di notte o cose del genere Dorian da un altro messaggio e Dorian scrive e siamo ormai arrivati alla fine della trasmissione riprendo un po' in ritardo un dialogo che ho interrotto con Claudio Simeoni riassumo intanto una cosa su cui non ero riuscito a farmi capire uso dei termini molto diversi rispetto all'altra volta magari mi spiego meglio cercavo di argomentare rispetto alla verità laica fra virgolette di Cristo e il cristianesimo il concetto di verità mi sembra riguardi due questioni è vero ciò che non è una illusione ossia ciò che persiste nel suo essere se non persiste allora non sarebbe più e non essendo più non potrebbe essere né vero né falso l'esistenza da sola presa da sola è in questo senso la forma più povera di verità cambia continuamente si trasforma non persiste nel suo essere rispondo innanzitutto sistemiamo il concetto di verità specialmente per metterci d'accordo di che cosa parliamo se usa il concetto di verità in termini religiosi monoteisti il concetto di verità è la manifestazione del Dio l'assoluto creatore lui rivela la verità se usa il concetto nei termini della psicologia o del paganesimo la verità è ciò che il singolo individuo svela in quel momento in relazione con il mondo in cui vive se oggi ho una verità del mondo perché percepisco e comprendo il mondo in un certo modo domani ho un'altra verità del mondo perché percependo nuovi e diversi fenomeni percepisco in modo il mondo in forma un po' diversa e così via per tutta la mia esistenza il concetto di verità fotografa l'attimo presente ed è immobile in quel presente rappresenta il mio assoluto nella relazione con il mondo ora se la verità si impone all'individuo l'individuo diventa immobile all'interno di quella verità immobile ogni discorso che farà l'individuo sarà finalizzato a riaffermare la sua immobilità diversa è la relazione che c'è fra Estia e Demetra Estia è la verità immobile al centro della casa la vergine che nessuno può possedere Demetra è la libertà la crescita continua il continuo rinnovare della verità di ogni singolo individuo Estia è la verità e Demetra è la libertà e i due movimenti convivono interagiscono se Estia è il sopravvento l'individuo si chiude in se stesso se Demetra distrugge Estia l'individuo si perde nell'immenso io parto la conquista del mondo psicologicamente parlando con delle convinzioni che sono la mia verità ma in quella conquista la verità viene modificata al giungere di ogni nuovo fenomeno e questa modificazione è l'azione di libertà di Demetra su di me dice Doria si può trovare un livello in cui l'esistenza raggiunge lo status di verità un livello in cui pur cambiando in qualche modo permane è il livello che mette in campo i valori umani l'esistenza può permeare nel suo essere quando ha affondamento dei valori che sono in potenza universalmente ed eternamente umani quando qualcosa è concretizzazione di valori che rispettino ogni uomo e siano potenzialmente attualizzabili in altri modi sempre da tutti allora si può dire che l'esistenza ha raggiunto un livello di realtà pieno ad esempio un mito è un qualcosa di concreto nato in un tempo preciso ma che può essere riletto in ogni tempo e luogo come concretizzazione specifica di qualcosa vivibile in altri modi anche dagli altri esseri umani naturalmente dire che qualcosa debba essere vivibile anche dagli altri esseri umani implica che ci siano degli esseri umani che possono vivere questo qualcosa non deve portare alla morte degli uomini ma alla vita rispondo qui provo a sviluppare il concetto di valori troppo usato e spesso abusato nella società in cui viviamo che cos'è un sistema di valori usato in questo contesto i valori sono quell'insieme di principi che determinano etica e morale comportamenti e relazioni di una persona nel mondo sociale e più in generale della vita i valori che una persona individua sono alla base delle sue azioni anche dei suoi inganni tanto per non confondere un sistema di valori per essere dichiarato o annunciato deve essere definito perché questo perché non esistono dei sistemi dei valori o dei valori singoli che possono essere intesi come comuni a tutte le persone noi viviamo in una società che è divenuta per modelli statici che normalmente vengono chiamati ideali ma l'ideale è una percezione soggettiva che ne ha l'individuo della realizzazione del proprio intento sia in forma personale che in forma collettiva solo che l'individuo elabora i propri ideali all'interno della realtà finita della propria verità e l'ideale finisce per essere l'idealizzazione del trionfo della propria verità cioè della propria soggettività l'individuo non prende a modello la realtà oggettiva della società in cui vive o della natura ma prende a modello se stesso separato dalla natura e dalla società e sulla natura e sulla società proietta i suoi ideali che altro non sono che ciò che egli immagina per esempio io ho avuto molti problemi 30 anni fa con la definizione dei valori del termine comunismo ero una specie di pesce fuor d'acqua e ho impiegato 15 anni per capire che le persone davano il significato alla parola diverso dal mio infatti il comunismo per loro era la riproduzione nella società della società dei primi cristiani la città di Dio di Campanella l'utopia di Tommoso Moro la città di Dio di oh miseria di Agostino l'utopia di Tommaso Moro la città del sole di Campanella la repubblica di Platone cosa che per me era assolutamente inconcepibile si trattava di proiezioni sulla società delle proprie illusioni modelli a cui le loro aspettative aderivano e anche le mie il paganesimo inverte questo sistema di leggere il sistema di valori il principio base del paganesimo è che le specie della natura si espandono divengono e si trasformano continuamente per cui data una verità della nascita di ogni singolo soggetto di ogni singola specie entra in gioco Demetra che spinge come tensione soggettiva il singolo soggetto ad espandersi allora il sistema di valori che un pagano politeista accetta è quel sistema di valori che incontra nascendo nel nostro caso è il sistema di valori determinato dalla Costituzione della Repubblica Italiana se vuoi ti elenco dal primo all'ultimo articolo dicendoti che quegli sono i valori che determinano le nostre scelte etiche e morali civili e relazionali ma questo vale anche per la natura ogni nuovo nato assume come mondo in cui vivere ed agire il mondo che trova la nascita e in quel momento mette in atto le proprie strategie di esistenza come pagani come agiamo quel sistema di valori non è statico quando nella società in cui viviamo c'è qualcosa che stride fra passi sociali e valore e compito del pagano fare in modo che quello stridere venga risolto e qui mi fermo per quanto riguarda questo concetto e mi fermo qui anche per la trasmissione 049 600 600 049 700 838 se qualcuno vuole telefonare vediamo un attimino questo è per te controlla che va bene vai a vedere pertanto io mi fermo qui e andrò avanti la prossima trasmissione serale a esporvi questo tipo di concetti lo so che sono abbastanza cioè non sono dal punto di vista radiofonico molto chiari pronto? ciao perfetto come al solito e se lo saluto solo perché sei tardi ok sei capito qualcosa almeno limpidamente proprio perché le risposte le stai proprio ti dico vado avanti tra trasmissioni per fare questo è un lavoraccio veramente veramente perfetta ogni domanda risposta proprio va bene ok grazie ciao 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 no è importante che si sia riusciti a capire qualcosa perché quando girano email in internet purtroppo vengono dopo vengono dopo riprese e molti fili che al momento sono chiari poi vengono magari dimenticate le connessioni e non non è più chiaro come quando si era scritto è come quando si ha un'idea no? abbiamo un'illuminazione a un certo punto abbiamo un'idea in testa poi si cerca di mettere per iscritto almeno io cerco per mettere per iscritto e vedo che non è più la stessa cosa cioè quella che è stata l'illuminazione del momento l'intuizione che è emersa in maniera prepotente quando si mette per iscritto non rende più la stessa cosa però come diceva qualcuno l'importante è mettere qualcosa per iscritto e trasmettere agli altri bene allora prossima volta continueremo con questo pezzo la sera e andremo avanti abbastanza perché per te conto che questa sera vieno fatte abbiamo cominciato tardi però perché ho fatto un errore con la registrazione della radio in ogni caso stasera abbiamo fatto 10 pagine sono 48 in tutto penso che in altre 2 o 3 massimo trasmissioni riusciamo a finire anche questo pezzo che vi ricordo lo potete trovare in internet confuso esattamente come ve l'ho letto adesso dopo magari andando avanti diventa più chiaro infatti avete visto che la prima e la seconda parte i pezzi si chiarificano e lo trovate all'indirizzo http 2 punti barra barra www.federazionepagana.it barra religionecristianesimo .html tutto qua io ho chiuso la trasmissione vi ricordo comunque per venerdì presso la biblioteca comunale di San Drigo la conferenza contro il monoteismo tenuta da Silvano Lorenzoni che vi illustrerà il suo libro la prossima volta magari parleremo ancora di purtroppo la religione cristiana non è una religione è semplicemente un accumulo di credenze che vengono imposte e questo è il motivo per cui magari i radioascoltatori che hanno il rosario in mano si sentono un po' bistrattati io spero di procurarmi anche il libro di Ambrogio e Simmaco così almeno potrò farvi capire come il cristianesimo abbia avuto disprezzo delle antiche religioni e dei vecchi pagani mentre stavano morendo quella loro religione e questo comunque ne vi parleremo ciao a tutti metto immediatamente l'appello della radio ciao ciao ciao